Può ripartire allora l'Inter, vediamo se riusciamo a fare un'azione, sbaglia Brozovic, incredibile l'errore di Brozovic, lancia Luanchema, limita l'area di rigore, il pallone ancora per lui, sulla sinistra, deve uscire dall'area, palla sul destro, uno contro uno con Murillo, lo punta, Murillo rischia anche il fallo, il pallone per Ogo, il sinistro che va sul petto, sbatte sul petto di Carrizo, che compie una parata involontaria, però decisiva, è incredibile l'errore di Brozovic. Brozovic ha fatto lo stesso errore che ha fatto nel derby, si ma ne fa tantissimi, uguale, preciso, altro tiro, altra parata di Carrizo, poi spazza male, Nagatomo, regala il pallone a Barbusotto, Carrizo in due tempi, non si può vedere una cosa del genere, non si può vedere, sono fermi, non lo vedete che sono fermi? Luancheme, Candre vale indietro, 45 secondi al termine, Carrizo, Carrizo prova il lancio, oddio santo, non è possibile, ma non si può vedere, palla in fallo laterale, ma come si fa, ultima azione, tu lancio senza pressing, dai la palla per, attenzione, palla per il 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2 della Poel, incredibile, 3 a 2, fuori gioco, ah no, 3 a 2 della Poel, 3 a 2 della Poel, 3 a 2 della Poel, incredibile, ma è vergognoso.